Salve a tutti cari amici del web, sono Andrea Bruno. Quest'oggi non è mia consuetudine entrare in argomenti quale la grafica web, però quest'oggi vi parlerò proprio della grafica web, ovvero l'impiego di effetti grafici targettizzati per la realizzazione di un sito internet con un effetto visivo, non oserei dire notevole, però un effetto visivo che aggrada all'occhio. Allora, ho deciso proprio di parlarvi di questo aspetto qui, proprio perché oggi ho messo a punto un algoritmo dedicato per applicare degli effetti grafici delle tonalità visive dinamicamente alle immagini del mio content management system. Molti diranno, eh ma perché te Andrea Bruno ti occupi di grafica, che cosa c'entra, tu che sei uno sviluppatore ti vai a mettere a fare il grafico, cioè non è da te, lascia stare. No, non è così, perché siccome qui entra in gioco il discorso della compatibilità verso il basso, per cui un programmatore professionista che ha abilità nel maleggiare, diciamo, quelli che sono gli aspetti importanti della programmazione, quindi anche l'immagine, questo qua, ha anche competenze verso il basso, per cui per un programmatore non esiste il problema di poter fare della grafica, anzi sono cavolate, il problema, casomai, se sussiste, sussiste in maniera inversa. Un grafico non può andare a implementare delle funzioni dinamiche di effetti sull'immagine, perché questa cosa qui non le ha compete. Però, visto che nell'ambito professionale la compatibilità è sempre verso un basso, un programmatore, che ne so, può fare la pasta, può fare il grafico, può fare tutti gli aspetti tecnici, i lavori, le professionalità che richiedono un aspetto tecnico competente, per un programmatore sono tutti giochetti da ragazzi, per cui mi sono cimentato in questo lavoro qui, dove vado a fare degli effetti grafici. Questi effetti grafici non sono quelli che puoi fare col Photoshop, perché il Photoshop non è un programma, sì è vero c'è i suoi plugin con dei filtri delicati, e quelli sono specializzati proprio su un tipo di effetto, e possiamo, in un certo senso possiamo andare a paragonare questo lavoro che ho fatto io, ai filtri del Photoshop. I filtri del Photoshop non sono dei filtri di tonalità, sono dei veri e propri programmi che possono anche andare ad aggiungere delle distorsioni, andare ad aggiungere, che ne so, dei disturbi, andare ad aggiungere, diciamo, delle tonalità a correggere, ad affilare le immagini, sono delle funzionalità a livello programmazione. Io allora cosa ho fatto? Io ho creato una routine che applica queste funzionalità, in questo momento stiamo vedendo Visual Studio, più precisamente la parte di programma, che a seconda dell'effetto filtro che si vuole chiamare, lui chiama quel filtro lì dedicato. Per cui già all'atto programmazione vediamo che non è una funzione singola che viene richiamata con dei parametri diversi, ma sono proprio tante funzioni dedicate per dare degli effetti visivi alle immagini dai connotati entusiasmanti. E io vi farò anche vedere perché. Vediamo una dimostrazione e chi veramente se ne intende di grafica capirà che il livello raggiunto con questi effetti è veramente notevole. Faccio partire il browser. Ecco, ricorda a tutti che in questo momento io sono l'atto programmazione, per cui sto facendo il debug, non ho le prestazioni del sito internet, poi tra le altre cose sono anche su un portatile, però per fare una dimostrazione visiva di quelli che sono gli effetti delle mie implementazioni una screencast di questo tipo va benissimo. Ok. Il programma si è compilato e è partito. Il programma si è compilato e è partito. Io ho già caricato dentro, già precaricato delle immagini, delle immagini che troviamo qua. In questo momento noi vediamo un'immagine che non ha nessun effetto visivo. Questa qui è una foto che ho fatto al lago, il lago di Como in Italia, già diversi anni fa. Questa qui è una foto in cui io andrò ad applicare l'effetto. Giusto per farvi vedere come cambia, come cambiano le foto e l'applicazione di questi effetti visivi sulle foto e dei fotoalbum danno veramente qualche cosa in più al sito. e vi farò vedere proprio anche cosa intendo. Allora vado sotto il pannello di configurazione. Ok. Nelle proprietà avanzate trovo tutte le funzioni immaginabili possibili per andare a ravanare con le funzionalità del content management system. Funzioni che la maggior parte di queste non integra nessun altro content management system. Per cui siamo già a livelli tutto sommato superiori. Allora ecco qua. Io ho qui dentro la possibilità di scegliere un effetto visivo. Allora il primo effetto visivo che vi farò vedere è trasformare le foto e dargli un effetto polaroid. vediamo come si... L'effetto polaroid delle immagini è un effetto veramente molto trendy è un effetto che dà al sito un sito fotografico dà un effetto spettacolare. Seleziono l'effetto poi tra le altre cose questo effetto qua rende le immagini al 95% identiche a quelle che si otterrebbero veramente scattandola con una polaroid. Il livello di imitazione è veramente altissimo perché ho fatto diverse prove sono andato anche a confrontare diverse decine di foto proprio scattate realmente con la polaroid che ho trovato in internet per andare a vedere o fare un'analisi di quelle che sono tutti i connotati grafici visivi di questo tipo di fotografie. Allora io torno qua sulla pagina dove le mie foto faccio un refresh e vediamo subito che l'immagine a questo punto sarà con un effetto visivo che è quello della macchina polaroid. Possiamo anche andare a vedere altre foto andiamo a fare una scarrellata come potete vedere la foto con questo effetto visivo qui c'ha qualche immagine nella cache questo qui in bianconino in realtà è nella cache adesso do refresh e la andiamo a vedere è nella cache del bravo ecco come potete vedere queste foto sembrano scattate con una macchina polaroid ecco anche qua ecco questa qui è la foto originale adesso andiamo a vederla veramente come verrebbe scattata con la macchina polaroid ecco come potete vedere questo effetto è un effetto che ci ho programmato dietro è abbastanza complicato da ottenere però questo qui è veramente l'effetto che replica in maniera identica proprio quello che è il risultato di una foto scattata con la macchina polaroid un sito con una galleria fotografica con immagini di questo tipo è veramente molto accattivante poi tra le altre cose io i settaggi che vado a mettere nel content management system dinamicamente li applica a tutti i foto album all'interno del sito e anche sotto i foto album diciamo sono impostazioni che vengono prese di default immediatamente per cui se poi a me non mi va bene avere il foto album con un certo effetto semplicemente andando a cambiare delle impostazioni riusciamo a rimettere tutto come era prima oppure a fare altri cambiamenti adesso continuiamo con questi esempi abbiamo visto l'effetto polaroid che è veramente un effetto molto bello ritorno nelle proprietà avanzate del sito web in locale e andiamo a settare un altro effetto grafico allora un altro effetto grafico che vi posso far vedere è l'effetto Ray-Ban l'effetto Ray-Ban è probabilmente quello più entusiasmante di questo set di effetti grafici perché è un effetto che pre di tutto migliora tantissimo quello che è la qualità della macchina fotografica e ha un effetto visivo che è veramente straordinario adesso vado a fare il refresh così vi faccio vedere subito applicando questo effetto alla fotografia qual è il risultato che possiamo ottenere ecco questa qui è una fotografia che è esattamente identica a quello che è quella che è la visione attraverso gli occhiali Ray-Ban questo qui è l'effetto Ray-Ban gli occhiali Ray-Ban quelli quelli classici non quelli adesso sono tantissimi occhiali marcati però questo qui ho fatto veramente un sacco di prove anche sulle gradazioni cromatiche sono andato a testare proprio i pixel vedere quella che è il diapason lo spostamento di tonalità il contrasto la finatura questo qui è un'immagine aggiustata con l'effetto filtro delle famosissime lenti Ray-Ban un effetto veramente per la vostra galleria per il vostro fotolmo è un effetto veramente eccezionale possiamo anche andare a vedere già che ci siamo andiamo a vedere altre foto giusto per vedere se no abbiamo visto solamente questa qua allora allora stiamo continuando questa carrellata con esempi di effetti visivi sulle immagini andiamo a prendere un'altra foto ecco questa qua è la foto originale che è nella cache del browser e vi adoro il refresh in automatico si applica l'effetto Ray-Ban anche su questa foto ecco di foto adesso io ho caricato dentro il locale delle foto che sono quelle che uso io per i miei esempi ecco questa qui è una foto di un chiosco della coca cola guardate questo chiosco qui della coca cola l'ho trovato in Bulgaria e questo era bello ecco in questo caso qua anche se lui sembra con un effetto retro con i colori già aggiustati e tutto in realtà questo qui è la foto originale cioè proprio c'è un un chiosco della coca cola che non so quanti anni potrebbe aver avuto ecco io do il refresh e andiamo ad applicare l'effetto Ray-Ban anche a queste immagini ecco come potete vedere l'effetto visivo è notevole adesso andiamo a cambiare il tipo di effetto allora tra gli effetti che noi possiamo andare a scegliere ecco abbiamo anche un bellissimo effetto vintage ecco questo qui è un effetto che dà veramente un tocco di classe a un sito con delle gallerie fotografiche un effetto veramente molto avvincente applichiamo le modifiche e andiamo a fare il solito refresh in modo da vedere come si presenta questa fotografia con il famosissimo effetto vintage messo a punto con l'algoritmo da me creato queste foto applicando l'effetto vintage ecco questo qui è ancora l'effetto Ray-Ban che è nella cache del browser do il refresh e appliciamo l'effetto vintage come potete vedere questo effetto vintage dà un qualche cosa di retro a queste fotografie possiamo andare a vedere anche altre foto che avevamo già visto in questo caso in questo caso vediamo la foto album nella root di questo foto album andiamo a vedere per esempio questa foto con applicato l'effetto vintage ecco come potete vedere questo effetto ricorda tantissimo foto che potrebbero essere state scattate a cavallo tra gli anni 70 e 80 andiamo a provare altri effetti questo lavoro qui l'ho appena finito di fare non l'ho ancora pubblicato poi stasera lascerò una nuova release del content management system allora dopo lo potrò usare online farò anche l'update ai miei siti internet con questo nuovo con questa nuova release ecco tra gli altri effetti che possiamo andare dentro a vedere molto interessanti abbiamo l'effetto al capone adesso ve li mostrerò tutti molto velocemente così non perdiamo tempo l'effetto al capone avrete tutti già indovinato che tipo che tipo di effetto è ecco questo qui è il famosissimo effetto al capone andiamo a provare altri effetti ce ne sono ancora un paio che sono veramente molto interessanti molto cool molto alla moda allora adesso andiamo a provare questo effetto trendy e tra le altre cose il mio content management system usa usa l'htlm 5.0 che è il massimo che possiamo trovare attualmente della tecnologia web usa il cosiddetto responsive web design per cui tutto quello che voi vedete a video si adatta perfettamente alle dimensioni del vostro monitor sia se voi usiate un telefonino come anche se andate ad usare che ne so un televisore di 50 pollici tutto verrà impaginato perfettamente usando la tecnica del responsive web design e la grafica template per la skin la grafica template per la skin con il cosiddetto sistema fluid ecco questo qua come potete vedere è un altro bellissimo effetto visivo ecco adesso do refresh refresh praticamente cosa fa mi toglie questa immagine qui che è quella nella cache del browse del browser e la sostituisce con quella con quella con le impostazioni nuove ecco ecco come potete vedere le foto con questo effetto grafico hanno un qualche cosa di veramente particolare hanno un sapore diciamo retro ecco questa qui è una foto che ho scattato a Mosca questa qui è la foto originale poi andremo a applicare l'effetto di questa foto qui questa foto qui è una foto molto interessante perché cos'è successo qua praticamente a Mosca negli anni settembre a Mosca c'è la linea con i tram gli elettrobus con questi pantografi qua cosa succede? cosa hanno fatto Mosca? siccome può capitare che spesso l'impianto va in avaria ovvero smette di funzionare ci sono magari delle situazioni in cui la linea si interrompe allora cosa hanno fatto a Mosca? hanno questa qui è la varina e la slujba ovvero è il tram di pronto intervento quello che arriva e fa la riparazione sul posto lì dentro c'ha tutte le cassette gli attrezzi il saldatore il compressore c'ha tutto quello che occorre per andare a riparare la linea elettrica dell'elettrobus cosa succede? hanno fatto tutto hanno progettato poi si sono resi conto che siccome la varina e slujba anche lui è in effetti è un tram elettrico che va con quella linea lì quando c'era il guasto questo qui neanche si muoveva perché ha bisogno anche lui dei fili della corrente per muovere allora non l'hanno mai usato l'hanno tenuto lì lo usavano giusto per mandare qualcuno a prendere il caffè per fare queste cose si sono resi conti dopo che praticamente questo qui non poteva essere di nessuna utilità perché quando c'era l'avaria ovvero quando vai in avaria quando non funziona più niente che la linea è interrotta questo qui mica poteva camminare perché se anche lui si basa sulla stessa linea elettrica chiaramente rimanevano a piedi anche questi qua ecco questa è una foto che ho fatto a Mosca già diversa a tempo fa ecco questo qui ecco come potete vedere questo effetto visivo è veramente molto bello potete immaginarvi un sito con un fotoalbum con questi effetti qua è un sito con delle gallerie veramente notevoli adesso andiamo a provare altri effetti grafici sempre di questa carrellata qua ecco vi farò vedere questo effetto che gli ho dato il nome cool giusto e questo sarà l'ultimo che vi farò vedere tuttavia ce ne sono dentro ce ne sono anche altri io essenzialmente gli ho messo dentro gli effetti degli effetti che ha senso mettere dentro non vado a mettere che ne so il filtro su un colore sono effetti che trovano un largo impiego per chi soprattutto vuole pubblicare delle foto ecco come potete vedere questo risultato che otteniamo con l'effetto cool facciamo refresh questa immagine ecco come potete vedere un effetto un effetto molto bello per chi vuole creare un sito con delle tonalità dal gusto retro molto particolare questa questa foto anche se apparentemente potrebbe essere molto simile a una foto in bianco nero non è una foto in bianco nero è una foto che ha i colori molto soffusi vedete questo qui questo qui serve rosso diventa così è una foto che ha delle tonalità veramente molto particolari ecco impostando da quel pannello che avete visto prima l'effetto fotografico l'effetto automaticamente si va ad applicare su tutte le foto all'interno del content management system ecco questo qui ecco dato refresh adesso vediamo questa foto con quell'effetto visivo ecco anche tutti i documenti in pdf all'interno del content management system che utilizzano le foto della gallery anche tutti i documenti pdf sono immediatamente generati con le nuove impostazioni ecco per esempio noi andiamo a aprire questo pdf qua come possiamo vedere anche il pdf assimina le medesime impostazioni della foto in formato jpeg all'interno del sito internet questo qui è una future veramente molto interessante un'altra funzionalità che vi posso far vedere sempre per quello che è gli effetti visivi del content management system vi le faccio vedere proprio giusto velocemente allora noi abbiamo un plugin che permette di mettere il foto album come carrellata nei bottoni che portano il foto album eccolo qua aggiungi l'immagine nel background dei bottoni ecco come potete vedere in questo caso qui dentro nel bottone abbiamo una carrellata di immagini che scorrono che sono immagini che va a prendere in automatico dei foto album che abbiamo nel nostro sito internet un'altra funzione che voglio così giusto far vedere anche questa qui l'ho aggiunta 3-4 giorni fa non più in là è la possibilità è un plugin che in questo caso non è una funzionalità del CMS è una funzionalità che è aggiunto con un plugin che è il batch ground slideshow ovvero lo sfondo può essere uno slideshow delle immagini allora in questo caso per attivarlo devo cliccare qui e poi confermare sotto in fondo alla pagina allora vado a dirgli conferma ecco come potete vedere noi abbiamo nel batch ground abbiamo le foto che abbiamo nel nostro foto album con l'effetto dell'interdacciatura ovvero queste foto sembrano viste in un televisore a tubo catodico ecco anche questo è un effetto molto bello per un sito internet perché dà veramente quel qualche cosa in più diciamo è quella cura particolare dell'aspetto visivo un'altra cosa molto interessante è anche la possibilità di poter osservare le immagini nell'album fotografico dargli dandogli una tonalità di sfondo in modo da metterle meglio in evidenza ecco in questo caso come voi potete vedere io ho messo il nero come tonalità di sfondo la foto risalta molto di più ed è possibile giudicare queste immagini questa foto in maniera migliore perché si è meno influenzati dall'ambiente circostante ecco per oggi è tutto vi ho fatto vedere quello che è la mia ultima invenzione fra pochi istanti pubblicherò l'ultima versione del mio content management system che neanche farla apposta in ambiente microsoft è uno dei più scaricati utilizzati in assoluto da quando l'ho messo online a un successo sono veramente tutti i giorni centinaia di utilizzatori che lo scaricano sono veramente contento di questo è un prodotto completamente gratuito open source tutto il codice sono contenuti nel pacchetto non sono richieste royalty nemmeno per chi ne volesse fare un uso professionale un calore saluto a tutti da parte mia e ci vediamo alla prossima saluto a tutti